buonasera a tutti quanti questa sera fa ancora caldo ma si bolle di caldo molto caldo venerdì 15 e 15 luglio 2022 alla 1 e 16 minuti meno male che fa ancora caldo viva l'estate viva l'estate più l'estate è meglio è 1 e 25 lì era 1 e 17 10 minuti più più vi auguro una buonasera tutti quanti ci sentiamo domani mattina ciao a tutti